La collezione della Silla Ho visto che ci sono dei sandalini gioielli che sono deliziosi, sono bellissimi, uno più bello dell'altro, quindi difficile la scelta Molti pezzi mi sono piaciuti, gli strass sono un classico della vostra griffa, mi è piaciuta moltissimo la décolleté che ha gli strass sotto la suola, quello l'ho trovato veramente geniale Ovviamente tutto questo glamour molto Hollywood, tanto Swarovski sulle scarpe la rendono molto preziosa Gli industrini, gli strass sono sempre molto belli, devo dire che anche il sandalo è molto bello, ho visto le versioni in oro molto accattivanti Sono molto eleganti i sandali flat ma con un po' di borchi e gioiello e perché no anche le spadriglias di pelle decorata, è una bella idea Posso dire una bugia o dico la verità? Mi è piaciuto tutto e questa è la verità Mi piace il fatto che comunque siano sperimentali queste nuove scarpe da uomo e quindi i materiali, le borchie, tutto questo incrocio di cerniere eccetera eccetera È diverso da qualunque altro brand e quindi mi piace E poi la comodità, è spettacolare, è come no sentirla, avere il taco e non sentirla, che di solito si fa fatica con il taco Il taco cambia totalmente il look, l'immagine e il portamento di una donna quindi nel momento in cui ci si veste e si mette un taco l'impatto, l'impressione visiva cambia radicalmente Se capita che magari devo portarlo dalla nonna a un evento e c'è il plateau riesco anche a correre se c'è il plateau perché devo dire che è molto comodo Ieri tu sai che mi hai prestato la scarpa per il matrimonio di Belen e ho ballato tutta la sera con un taco 15 Belen stessa mi ha detto ma togli di questi tacchi io no perché sono comodissime, non me li sono tolti Ho avuto modo di usare delle ballerine bellissime e di vederle anche nella nuova collezione delle sneaker che insomma porto anche in campo gara molto belle Dalle stile trovo le scarpe basse belle, comode anche perché hanno quella furbizia all'interno, un mini plateau dietro che ti permette anche alla schiena di stare comoda Così come queste che indosso io adesso Sono geloso un po' degli sguardi che creano questi tacchi più che del taco in sé perché mi piace, mi piace vederla così Complimenti!